Non poteva non tendere una mano a Genova il presepe di Manarola. L'edizione realizzata per il Natale 2018 sulla collina a picco sul mare delle Cinque Terre ha ospitato anche il ricordo della città ferita dal crollo del ponte Morandi. Il suo creatore, l'inossidabile novantenne Mario Andreoli, ha voluto questa aggiunta e l'ha realizzata assieme ai suoi giovani collaboratori. Abbiamo pensato di fare appunto quella città lì dedicata per Genova, per le vittime poverette e tutto quanto. Abbiamo formato questa associazione e vedo che va abbastanza bene. Sperando che continui, ecco perché ormai è venuta un po' una tradizione, oltre il fatto che per me, per tutta la gente, e vedo che ne vengono abbastanza. L'associazione è quella che si è costituita poco più di un anno fa, nel novembre del 2017, per portare avanti l'intuizione iniziale di Andreoli, Ferroviere in Pensione, che dal 1976 ha iniziato a dedicarsi alla realizzazione del presepe di Luci, inaugurato ufficialmente nel 2007 ed inserito nel Guinness dei Primati. Per il presepe sono stati usati circa 8 chilometri di cavi elettrici, 17 mila lampadine, più di 300 figurine a grandezza naturale, fatti con materiali inutilizzati o riciclati. Nel 2008 il presepe è diventato anche ecologico, perché viene illuminato grazie ad un impianto fotovoltaico. Rimane acceso fino alla canderola, al 2 di febbraio. E quindi va bene, allora fino al 2 febbraio e poi si pensa già all'anno prossimo. Eh sì, ecco, sperando che questi ragazzi continuino, ecco, perché insomma, per ora la voglia, se li ho seguiti un pochettino, sai com'è, ecco. Con questo gruppo di ragazzi. Esatto, perché non ce la faccio più, ecco, in pieno vado, ma in salita e...